Sei ancora convinta? Sì, siamo a Palermo, siamo a Palermo, a Palermo eccoci qua, si vede che siamo a Palermo, bella location, grazie, lo sappiamo, è famoso il monte, è famoso il monte, qualcuno chiede chi è quello con il nasone? Inquadra anche quelli che stanno a prendere sto sole pazzesco, guardate ragazzi, sono lì che facciamo la scampagnata, ecco è arrivato il team manager, ragazzi, sta arrivando il team manager, quando si avvicina così è nero, anti-doping, oh merda, che cazzo è successo? Ciao Silvia, ma quanti gradi ci sono? Quanti gradi ci sono? Tu che sei qua? 18, 18, e chi dice 18 e chi dice 17?